Siamo arrivati alla 29esima Sagra del Polastrelle che si festeggia in ricorrenza della Madonna del Carmine che di solito avviene intorno al 16 luglio. Noi la festeggiamo alla terza domenica di luglio e siamo partiti nel 1989. Fino ad adesso che siamo diventati in 150 volontari e la Sagra si è espansa in modo notevole. Con il ricavato della Sagra sono stati ristrutturati il campanile della chiesa di Monzambano e della chiesa di Olfino e manteniamo a posto sistemato il nostro parco dove organizziamo appunto questa Sagra. Il piatto forte della Sagra è il Polastrelle sulla Gradela che è un alimento che non è mai mancato sulla tavola dei contadini e poi si possono degustare altre pietanze tutte locali insieme a accompagnate del buon vino. Sagra del Polastrelle organizzata dall'associazione culturale e folcloristica Pille Olfino è uno dei momenti di aggregazione più belli del nostro territorio che per quattro giorni anima le serate con l'enogastronomia, le orchestre, momenti molto folcloristici. Abbiamo anche il mercatino dell'artigianato e questi bellissimi gonfiabili per bambini. Vi consiglio di seguire la pagina Facebook dell'associazione che è sempre molto attiva e su quella riuscite a trovare tutte le iniziative che propongono. Grazie. Grazie.